Le aziende presenti sul territorio iniziano ad affidarsi alla scuola edile per migliorare la formazione dei propri dipendenti. Con queste parole è esordito in conferenza stampa il presidente dell'ente paritetico territoriale Fabio De Bartolomeo. Sono stati illustrati i progetti di formazione continua rivolti ai lavoratori delle imprese del territorio ionico finanziati dalla scuola edile di Taranto, dalla regione Puglia, dall'assessorato alla formazione professionale da fondi impresa. Sono progetti fatti insieme alle imprese, in questo caso la scuola edile fa da service alle imprese che è anche un'altra mission della scuola edile. Insieme alle imprese abbiamo avuto la fortuna perché in questi ultimi anni purtroppo non siamo stati aggiudicatari di finanziamenti sia dal fondi impresa che è il fondo nazionale a cui aderiscono un po' tutte le imprese sia dalla regione Puglia. Quindi siamo al fianco delle imprese, le imprese hanno chiesto la nostra collaborazione, quindi siamo noi come capofila, come ente formatore però sostanzialmente stiamo facendo servizi reali alle imprese, quindi le imprese hanno chiesto la formazione del loro personale e noi siamo al loro fianco per servirli al meglio e far sì che anche il personale delle imprese locali possa essere un personale di elite e dare il giusto servizio al territorio. Poi presentiamo anche i nuovi bandi di fondi impresa che scadono il 29 luglio e quindi chiediamo in questa occasione a tutte le imprese di riproporsi e di utilizzarci come enti di formazione e ripeto noi siamo al fianco di tutte le aziende per far sì che il personale venga formato nel modo migliore. ...nazionale per la formazione del...